I gradini d'ingresso del comune se non contiamo il rialzo del marciapiede. Quando arriviamo su, santa messa per tutti. Adesso glielo dico. Mamma, devo dirti una cosa importante. Mamma, perché piange adesso? Vabbè, per la gravità. Vincente. 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 Cosa? Vincente. Vincente. Puoi fare di meglio per impressionarmi, ok? Hey, stop, stop. What are you saying? He has Alzheimer's. Life is so easy. Please. He is getting worse here. He is just fading. We'll be back in Italy, ok? Vabbè? We'll be back home. In Italy? Eh. No. No, you have to answer no. We're coming here to do a vacation. stava qua l'altra? si ah si lo sapevi festa usciamo c'è gente ci divertiamo mettiti le scarpe dai stai pensando alla cosa giusta Don Matteo voglio solo vendicarmi lei neanche se lo immagina l'odio che provo per quell'uomo sono io papà sono io mi fai male, sono io ora ma mi ricordo ti ero ero così pura ero 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 perché non lo capisci non posso venire quando mi pare te l'ho detto cento volte però se avessi saputo che sarei venuta sarei venuta mi stai troppo tardi ero 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 ero